Cosa sta spingendo il suo prezzo verso l'alto? Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale dedicato al mondo delle criptovalute. Qui troverete aggiornamenti di mercato, recensioni di progetti e consigli per aiutarvi a prendere decisioni informate nel mondo delle criptovalute. Vi invito a seguirmi al canale per essere sempre aggiornati. Ti sei mai chiesto perché il prezzo del bitcoin continua a salire? Non si tratta solo di speculazione di mercato, ci sono ragioni concrete dietro questa tendenza rialzista. In questa analisi approfondita, esploreremo i molteplici fattori che stanno spingendo il prezzo del bitcoin e perché il 2024 potrebbe essere un anno cruciale per questa criptovaluta. Il bitcoin è destinato a essere un argomento significativo nelle prossime elezioni presidenziali e il suo ruolo nell'economia globale si sta espandendo. Ma cosa esattamente sta guidando il suo prezzo verso l'alto? Scopriamo insieme la tesi di investimento per il bitcoin nel 2024. La politica monetaria degli Stati Uniti è stata in uno stato di fluttuazione. Nonostante le condizioni monetarie rigide, stiamo assistendo a nuovi massimi storici per il bitcoin. Man mano che ci avviciniamo alle elezioni presidenziali, c'è una significativa pressione sul governo per stimolare l'economia. Questo probabilmente significa più stampa di denaro e sforzi per incrementare il mercato azionario, il che potrebbe avere un enorme impatto positivo sui prezzi del bitcoin. Storicamente, quando i governi iniettano denaro nell'economia, asset come il bitcoin, percepiti come riserve di valore, tendono a beneficiarne significativamente. La funzionalità del bitcoin si sta espandendo. Con l'avvento di asset nativi bitcoin e tecnologie come Taproot e Lightning Labs, il bitcoin si sta evolvendo oltre una semplice riserva di valore. Questi progressi significano che il bitcoin può ora fare tutto ciò che altre criptovalute possono fare, ma con maggiore sicurezza e decentralizzazione. Questo assorbimento di funzionalità da altre criptovalute dovrebbe consolidare il dominio del bitcoin sul mercato. Paesi come El Salvador e gli Emirati Arabi Uniti stanno diventando zone amichevoli per il bitcoin. L'adozione del bitcoin come moneta legale da parte di El Salvador ha stabilito un precedente, e altri paesi probabilmente seguiranno l'esempio. Dubai, in particolare, sta diventando un punto caldo per gli investimenti in criptovalute, il che è di buon auspicio per l'adozione globale del bitcoin e, di conseguenza, per il suo prezzo. L'introduzione degli ETF sul bitcoin è un altro fattore importante. Questi strumenti finanziari permettono agli investitori istituzionali di entrare nel mercato del bitcoin senza dover affrontare direttamente le complessità del possesso di bitcoin. Man mano che più ETF vengono approvati e lanciati, possiamo aspettarci un significativo afflusso di capitale nel bitcoin. Questo interesse istituzionale può far salire i prezzi man mano che la domanda aumenta. Le tensioni geopolitiche, in particolare tra Stati Uniti e Cina, rendono il bitcoin un'alternativa attraente per i paesi che cercano di proteggersi dall'incertezza economica. I paesi che non vogliono fare troppo affidamento su una delle due grandi potenze globali stanno rivolgendo il loro interesse al bitcoin come asset neutrale, il che potrebbe aumentare ulteriormente la domanda e i prezzi. Attualmente, il bitcoin sta performando bene nonostante i venti contrari macroeconomici. Tuttavia, questi venti contrari probabilmente si trasformeranno in venti a favore man mano che il panorama economico globale cambia. Il potenziale alleggerimento della politica monetaria degli Stati Uniti, insieme ai fattori sopra menzionati, potrebbe portare a massimi storici senza precedenti per il bitcoin. Il market cap del bitcoin potrebbe superare quello dell'oro, che è di circa 11 trilioni di dollari. Questo scenario porterebbe il prezzo del bitcoin a circa 650 mila dollari per moneta. Dato l'aumento dell'interesse istituzionale e l'adozione globale, questo sembra uno scenario base plausibile. In uno scenario in cui il bitcoin vede un aumento di 100 volte dal suo minimo di novembre 2022, circa 15.500 dollari, potremmo vedere i prezzi salire a circa 1,5 milioni di dollari per moneta. Questa prospettiva ottimistica prende in considerazione massicci acquisti istituzionali e una significativa adozione globale. Anche in uno scenario meno ottimistico, in cui il bitcoin affronta alcune sfide di adozione e ostacoli normativi, un massimo intorno ai 250.000 trattino 350.000 dollari per bitcoin è ancora realistico. Questo rappresenterebbe comunque una crescita sostanziale dai livelli attuali, ma non rifletterebbe il pieno potenziale che molti vedono nel bitcoin. Il bitcoin è destinato a essere un tema importante nelle elezioni presidenziali del 2024. I candidati stanno sempre più riconoscendo l'importanza del settore delle criptovalute, che ha una base di elettori significativa. Questa base di elettori, delusa dalle politiche ostili del passato, è pronta per essere conquistata da qualsiasi candidato disposto ad adottare una posizione pro-bitcoin. Istituzioni come BlackRock e aziende che seguono l'esempio di microstrategi stanno dando un'enorme credibilità e domanda al bitcoin. Ad esempio, l'azienda giapponese Metaplanet sta imitando la strategia di microstrategi di utilizzare prestiti a basso interesse per acquistare bitcoin, evidenziando una tendenza crescente di adozione del bitcoin a livello aziendale. Man mano che più aziende e investitori istituzionali entrano nel mercato, il prezzo del bitcoin probabilmente vedrà una significativa pressione al rialzo. Il 2024 potrebbe essere l'anno in cui il bitcoin trasformerà veramente il panorama finanziario. Con politiche monetarie favorevoli, un'adozione globale in aumento, progressi tecnologici e un significativo interesse istituzionale, il prezzo del bitcoin è destinato a un potenziale aumento. Che si tratti del caso base, ottimistico o pessimistico, il bitcoin è destinato a superare la maggior parte degli altri asset. In sintesi, l'aumento del prezzo del bitcoin è supportato da una combinazione di fattori macroeconomici, progressi tecnologici e crescente adozione globale. Man mano che queste tendenze convergono, potremo assistere a uno dei cicli più significativi nella storia del bitcoin. Detto questo grazie per aver letto la nostra analisi sul bitcoin nel 2024. Speriamo che queste informazioni ti abbiano fornito una visione chiara delle forze che stanno guidando il prezzo di questa criptovaluta e delle opportunità che potrebbero presentarsi. Non perderti il prossimo volo cripto, grazie per essere stati con noi. Se volete rimanere aggiornati sulle ultime novità del mondo cripto e non perdervi neanche una criptoavventura, schiacciate quel pulsante seguimi e attivate la campanella. Pronti a partire? Allora ci vediamo nel prossimo video!